buongiorno ragazzi benvenuti sul mio canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi attivate la campanellina per essere così aggiornati per i miei prossimi video adesso partiamo con il svolta spesa una piccola svolta spesa iniziamo subito un contenitore per animali che serve adesso ve lo faccio vedere vi faccio vedere qua mettete i croccantini per i gatti o cani e poi lo versate nella nella loro ciotola una bottiglia di olio una bottiglia di olio un pacco di farina manitoba un pacco di uova da 10 un pacco di uova da 10 un sacco di patate come uomini piace tanto la patata degli assolventi per le donne che li uso anch'io un lievito pane degli angeli per i dolci e infine ragazzi vanilliana con questo è tutto ragazzi spero che il video vi è piaciuto commentatelo condividetelo con i vostri amici e ci vediamo alla prossima puntata sempre con lo svolta spesa oh yeah no ho no nom